Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo tutorial ti spiego come scaricare e installare manualmente un aggiornamento di windows update ovviamente se riscontrate alcuni errori come questo qua noi possiamo direttamente scaricare il nostro aggiornamento attraverso il catalogo di windows update in descrizione ti ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina per scaricare aggiornamenti che vuoi ovviamente l'aggiornamento che andremo a scaricare per windows 10 versione 22h2 ovviamente io andrò a scaricarlo e ti farò vedere anche come installarlo però per procedere non posso perché io ho windows 11 però il metodo è facilissimo quindi andiamo su google andiamo sulla pagina che ti ho lasciato e tu scrivi direttamente il tuo aggiornamento che devi fare ovviamente io vado a scrivere l'aggiornamento kb5034122 faccio ricerca e mi escono fuori questi aggiornamenti aggiornamento cumulativo del di gennaio 2024 22h2 eccolo qua l'ultimo che è uscito è il 9 di gennaio vado a fare scaricamento clicco su questo link punto msu desktop microsoft update stand on package questo qua scarico l'aggiornamento 10 secondi ed è pronto ok una volta fatto non mi resta che installare questo aggiornamento quindi tu ci clicchi sopra preparazione all'installazione è in corso e installerà così il nostro aggiornamento impossibile applicare l'aggiornamento al computer perché io come ho detto ho windows 11 però se tu hai questo problema su windows 10 l'aggiornamento 22h l'ultimo aggiornamento di gennaio tu puoi installarlo senza problemi io andrò direttamente di nuovo su questo sito scrivo così il codice di quell'aggiornamento e mi escono fuori tutti gli aggiornamenti che devo fare tipo se io adesso vado a scrivere windows 11 mi escono gli ultimi aggiornamenti che devo fare su windows 11 eccoli qua finestre 11 prodotti windows 11 eccoli qua scarico e installo l'aggiornamento quindi se questo video vi è stato utilissimo a scaricare e installare un aggiornamento manualmente sul vostro sistema iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao